salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come risolvere l'errore del directx run team direttamente questo errore va risolto soprattutto su moltissimi giochi attraverso molti file driver che vanno aggiornati e aggiunti nella cartella del gioco quindi in questo caso in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare questo pacchetto che ha infiniti file driver proprio tantissimi driver audio directx tutto c'ha proprio veramente tutto anche i file dll mancati questi file servono anche a risolvere moltissimi errori sui giochi anche quando lo apri e soprattutto forse dico forse se crashi con questi file non crescerai più non lo so perché poi quello che ci interessa di più è risolvere questo errore il directx run team però prima di fare questo andiamo un attimo su servizi andiamo a trovare un servizio che si chiama disco virtuale ci clicchiamo sopra tipo di avvio manuale mettiamo automatico e facciamo applica e facciamo ok poi una volta fatto ragazzi io vi consiglio di riavviare il sistema ritornare di nuovo sul sistema poi e non ci resta che aggiungere questi file quindi in questo caso prendiamo un gioco ad esempio valorant prendiamo valorant ok quindi vado sul disco locale questo pc il mio volume fino a trovare la cartella valorant riot games valorant live ed eccola qua questa è la cartella di valorant ora prendo questo pacchetto raro non è che prendo questo pacchetto lo metto qua dentro no no ma non si fa così se no non funziona quindi winrar extract to directx run team se esce sul desktop ecco la cartella clicco nella cartella faccio contro la copia oppure fai contro più c copiato tutti sti fai adesso li metto qua dentro contro ok ed eccoli qua allora se apro valorant con tutti questi driver senza problemi il gioco funziona e se funziona valorant potrei anche aggiungere questi file in altri giochi quindi non mi resta che avviare valorant ok questo non si può aprire qua dobbiamo aprirlo direttamente dove sta ecco ecco valorant ah devo accedere anche ed eccolo qua con tutti quei file dll directx tutti quei file driver tutto proprio tutto li ho messi in quella cartella e valorant si è aperto senza neanche nessun problema ora speriamo che ok ce l'ho pure sul m2 se si carica ok allora valorant è andato quella era una violazione di avviso perché una partita scadente veramente non ce la facevo più e l'ho abbandonato quindi che vi posso dire di più grazie a tutti per questa visione iscriviti al canale se il video vi è stato utilissimo lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao